E Natale sono le feste un po' per tutti, anche per le persone meno abbienti che hanno delle difficoltà e per questo avete deciso di organizzare un cenone di fine anno per la giornata di domani in serata proprio per aiutare chi non ha nulla. Sì, ha detto bene lei, l'assessore di inizio è stata brava a mettere in rete tutte le associazioni che operano sul territorio di Pescara, iniziando dalla Croce Rossa che è poi la promotrice, passando poi per la Caritas, le Vincenziane e altre associazioni, Underod e altre associazioni che stanno praticamente sul nostro territorio, per cui grazie alla Croce Rossa che monterà un tendone enorme sull'area di risulto ospiteremo praticamente le persone bisognose partendo dai senza fissa dimora ma poi anche le persone che quella sera si sentono sole, mi riferisco agli anziani, mi riferisco alle famiglie tutte. Sarà un grande cenone, ci sarà un grande chef che cucinerà appunto pietanze abruzzesi, ci saranno gadget, musica, doni e quant'altro e poi una sorpresa che secondo me racchiude proprio l'essenza di questa manifestazione a servire saremo noi, cioè i politici saranno gli assessori, sarà il sindaco, saranno i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione perché quando ci sono queste manifestazioni che sono manifestazioni relativamente finalizzate al sociale non c'è da guardare l'aspetto politico ma soltanto è la finalità stessa, cioè l'aiuto alle persone. Ecco, è importante sottolineare che siete riusciti a fare rete con tutta una serie di associazioni che ogni giorno si occupano delle persone bisognose. Sì, questo è molto importante, ci tengo a sottolineare che noi come amministrazione ci impegneremo non solo a Natale ma anche durante l'anno, quello che già abbiamo fatto e non abbiamo mai dimenticato queste persone io e il mio capogruppo Massimiliano Pignoli di questo ne siamo fieri. Quindi non è una festa solo per Natale, ma è anche per ricordare a loro che noi siamo vicini a loro e dargli e stendergli una mano.